Benvenuti in lucavo, saluti da Melfi, la roccaforte di Federico II, una città affascinante, uno dei posti più belli del sud. Questa è la passificata, vi aspettiamo! Qui siamo dinanzi al castello di Federico II. Qui siamo all'interno del castello di Melfi, il castello di Federico II, una tozza di Melfi. Grazie a tutti!